ciao a tutti siamo già in piena estate e quindi un episodio sulle piscine mi sembra adatto e ci porta anche un po' in vacanza o magari ci rinfresca un po' però essendo estate volevo anche dirvi che sono abbastanza impegnato e forse anche voi inizierete a pensare un po' alle vacanze o al mare e comunque per dirvi che non mi fermo non mi fermo però rallento e non farò un episodio ogni settimana bensì ogni due o tre settimane e quindi insomma poi magari riprendere più costante a settembre quando poi ricominceremo con magari le solite routine e comunque appunto magari non essendo così puntuale e preciso anche mi premeva a dire se mi seguite o vi iscrivete a canale insomma in base al sistema che utilizzate per per continuare ad ascoltarmi e comunque grazie che se continuerete a darmi la vostra fiducia quindi iniziamo con l'episodio di oggi che come vi ho anticipato volevo parlarvi di piscine in quanto è sicuramente un elemento importantissimo in architettura che ovviamente ha la sua funzione pratica per rinfrescarci per farci un bel bagno ma in realtà viene anche utilizzato per valorizzare per esempio una villa una casa piuttosto che proprio l'architettura in sé con quelle piscine che magari non servono neanche per farsi un bagno ma solo da un punto di vista estetica o per portare per anche riflettere l'architettura o magari anche portare solo un po di refrigerio e quindi va beh iniziamo così dalle piscine più curiose per esempio sicuramente l'avrete già vista in vari documentari o anche film la piscina a singapore sopra i grattacieli per cui ci sono tre grattacieli al cui sulla sommità c'è una grossa piattaforma che li unisce tutti e c'è anche contenuta in questa piattaforma una piscina quindi a 340 metri in altezza è una piscina sfioro che è la più alta del mondo tra l'altro lunga 150 metri un bel lavoro ingegneristico sicuramente molto particolare interessante insomma da vedere probabilmente anche da farci un bagno comunque parlando sempre di grattacieli a grossa altezza per esempio mi viene in mente che a Londra avevo letto tempo fa un articolo che si vuole fare ancora non è non è realizzata però si vuole fare una piscina sfioro anche lì su un tetto di un grattacielo in quel caso addirittura si andava proprio a riempire d'acqua proprio dal tetto di questo grattacielo e si poteva accederci attraverso una scala spirale per cui ovviamente per fare attenzione che l'acqua non passasse sotto sarebbe un bel problema era un progetto molto complesso e sarei curioso di vedere poi come lo realizzeranno anche per problemi magari di vento a quelle altezze di non lo so di sicurezza sicuramente insomma quella anche bella particolare se cercate magari piscina di Londra sopra al grattacielo vedrete qualche immagine molto molto particolare appunto ma restando a Londra per esempio proprio da pochi giorni che ho visto che è stata in questo caso invece realizzato non è su un grattacielo ma tra due palazzi ha comunque un'altezza di 35 metri una piscina che appunto passa da un palazzo all'altro ed è una piscina interamente in vetro quindi lì sospesa in altezza e quindi molto incredibile molto bella da vedere anche se mi lascia sempre un po' perplesso questi interventi però insomma d'impatto diciamo che è solo d'impatto però ecco la cosa forse che non ho rimarcato è che è interamente in vetro questo anche da un punto di vista ingegneristico strutturale non è banale perché l'acqua accordo che è molto pesante è comunque un elemento pesante e quando magari non ci renderemo conto ma anche una piccola vasca e quindi poi se consideriamo una piscina che ha tanti metri quadrati di superficie per poi essere riempiti quindi parliamo di metri cubi di acqua a un peso specifico notevole e quindi appunto farlo in vetro è comunque molto complesso è una tecnologia abbastanza contemporanea proprio per la sua complessità di fatti così per curiosità sono andato a capire che il vetro utilizzassero perché il vetro come sappiamo è molto fragile basterebbe un colpo per magari creparsi e quindi o neanche creparsi ma più rompersi direttamente senza neanche un preavviso proprio per la fragilità di fatti quel vetro che utilizzano è un vetro acrilico e quindi sarebbe praticamente un plexiglass un materiale plastico ovviamente trasparente e quindi perché utilizzano la plastica perché al contrario del vetro che dicevo è fragile la plastica come sappiamo è molto più duttile probabilmente prima di rompersi avrà delle deformazioni quindi ha comunque molta più flessibilità nel resistere alle forze a cui viene sottoposto il materiale continuiamo un po' con questa lista per esempio mi viene in mente una piscina un po' controversa a mio parere comunque sulla scogliera di Alvaro Siza quindi un intervento di un architetto importante se non ricordo male ero in Portogallo in Spagna per cui sì un intervento abbastanza controverso però mi ricordo che più volte mi era capitato di vedere e leggere articoli appunto perché è fatto da Alvaro Siza oppure mi viene in mente che ero a Bilbao ed ero andato a vedere un palazzo ristrutturato tra l'altro dal designer Philip Stark del francese Philip Stark è molto molto famoso, molto importante e anche lì si vedeva, passavo, insomma passeggiavo in una corte all'interno di questo palazzo e sopra la mia testa c'era gente che nuotava e quindi anche in quel caso era sul tetto con una copertura trasparente che appunto da sotto si potesse vedere l'acqua e anche quindi in quel caso la gente che nuotava vabbè, qui per lo più ho parlato di piscina appunto con un uso pratico quello di dover nuotare, refrigerarsi come è giusto che sia del resto però parliamo anche di piscine che esistono in architettura perché magari non si ci può farci un bagno perché sono proprio magari solo specchi d'acqua di pochi centimetri per esempio mi viene in mente il famosissimo padiglione di Barcellona di Van der Rohe che è un esempio di architettura moderna appunto importantissimo per chi fa architettura, lo conosce, lo studia e anche in quel caso ci sono due specchi d'acqua di proprio pochi centimetri ma che servono per valorizzare l'architettura stessa per creare dei riflessi che riflettono l'architettura, la natura, ciò che ti circonda e quindi questo discorso è ricorrente ecco per esempio mi viene anche in mente il nostro architettore Enzo Piano che in tanti suoi progetti la utilizza e ne parla apertamente proprio perché è influenzato magari dal mare di Genova e quindi vuole introdurre anche dove magari non c'è il mare l'acqua proprio per la sua come dire naturale bellezza ecco che si muove col vento oppure per esempio come vi ho già più volte citato un progetto della città delle scienze di Calatrava a Valencia per cui ci sono queste piscine enormi non che si possa fare il bagno ma appunto per l'estetica semplicemente per l'estetica dell'architettura poi ovviamente come anche avrò più volte detto con i suoi pro e contro che l'acqua può portare inoltre volevo anche parlarvi di un progetto di una piscina che ho progettato io per una villa in Brasile a Bahia purtroppo solo all'università non nella realtà e in questo caso avevo fatto appunto una villa una casa molto figa e avevo messo posto questa piscina leggermente a sbalzo a sfioro e posta in direzione del mare perché in questo caso la villa era un po' a distanza del mare anche se la vedeva e quindi ecco mi è piaciuto anche e mi piace raccontarvi il fatto che il professore era piaciuto molto all'idea e per cui già subito aveva iniziato a costruire una storia molto poetica per cui la piscina serviva per avvicinare il mare alla casa per appunto come creare un binocolo o un elemento che rispecchiasse o ti portasse il mare all'interno dell'abitazione un prolungamento ottico per coinvolgere il fuetore, il cliente ecco si può appunto avere l'acqua o la piscina o appunto questo elemento così bello, naturale e anche per magari in questo caso un po' poetizzato un po' esagerato ma effettivamente per valorizzare l'architettura stessa ecco spero di avervi che vi sia piaciuto tuffarci un attimo col pensiero in piscina e spero di avervi rinfrescato un po' le idee e alla prossima grazie a tutti